Un centro vaccinale unico attivo a Giarre al fine di alleviare i disagi ai tanti utenti che in questi giorni, in seguito all'obbligo delle vaccinazioni e soprattutto a causa dell'allarme generale del recente caso di meningite a Mascali con la morte di un bambino, hanno affollato gli ambulatori dell'aspe di riposto, in particolare con lunghe file, sin dalle prime ore del mattino. Nell'ottica di ottimizzare il servizio pubblico, evitando stress a mamme e bambini al seguito, e lunghe attese derivanti dall'eccezionale numero di utenti, sarà prossimamente attivato nel poliambulatorio dell'Exinam di Corso Sicilia a Giarre, un centro unico di riferimento per i vaccini. Come conferma il sindaco di riposto Enzo Caragliano, che in tal senso ha ricevuto rassicurazioni dalla dirigente medica dell'ASP, Genoveffa Mandolfo, nella struttura sanitaria di Corso Sicilia, in un'apposita area, saranno attivi diversi ambulatori, che simultaneamente assicureranno le prestazioni vaccinali in tempi rapidi, accogliendo in tal modo le esigenze di tanti utenti che provengono dai numerosi comuni del distretto sanitario. Virginia Silvestro, assessore alla salute del comune di Mascali, assicura come si sta ragionando con l'ASP per organizzare al meglio gli uffici dell'Exinam, che dovranno ospitare il centro vaccinazioni, sia dal punto di vista strutturale che da quello della digitalizzazione.